È una corsa contro il tempo anche a Lanciano per consentire la riapertura delle scuole cittadine in tutta sicurezza il 14 settembre. In Consiglio Comunale l'assessore ai lavori pubblici Giacinto Verna ha rassicurato la cittadinanza e le famiglie su tempi e risorse, ma il consigliere d'opposizione della Lega Antonio Di Naccio ha espresso forti preoccupazioni su risorse e cronoprogramma, visto che in alcune scuole ci sono già dei lavori in corso. L'assessore ha parlato di finanziamenti, 160 mila euro con dei PON FERS che arrivano attraverso l'Europa, la regione, e sono quelli che tutte le scuole hanno fatto richiesta per l'adeguamento funzionale, quindi miglioramento funzionale. E vedo che c'è una delibera del 5 di agosto che approva le schede di progetto, quindi questi progetti chiaramente dall'approvazione in poi devono essere poi attuati e siamo, ripeto, già ad agosto. Poi si parla di 300 mila euro di mutuo, un mutuo che è già approvato a dicembre, quindi prima dell'emergenza, e quindi che secondo me dovevano già riflettere gli interventi in attuazione dell'emergenza, e quindi secondo me è da rivedere, ma soprattutto l'importo che è previsto e l'appalto della gara che è avvenuta tra maggio e giugno di quest'anno, chiaramente è ancora in una fase invionale. E dal cronoprogramma della Determina si legge che i lavori termineranno a dicembre 2020. La mia è una forte preoccupazione, perché è una preoccupazione manifestata da tutti i cittadini, nonché anche italiani in questo periodo, perché sappiamo un po' anche la confusione che c'è tra le ordinanze ministeriali e ovviamente l'attuazione in pratica da parte dei comuni. Non sono solo le scuole a preoccupare Lega Fratelli d'Italia, l'Aggiunta Pupillo infatti avrebbe dimostrato scarsa capacità programmatica anche per gli impianti sportivi. La situazione è drammatica, perché anche lì purtroppo una programmazione molto molto superficiale, anche se inesistente, ha portato alla luce una serie di criticità. Molte società sportive di calcio sono costrette ad emigrare nei comuni limitrofi, Rocca San Giovanni, Mozzagroni e così via, perché lo smantellamento dell'esposito andava fatto al fine lavori del Central Park. Però a fine lavori, contestualmente, preparare e mettere e sistemare il Dimeco e il Redicoppe. Attualmente questi due campi di calcio, che dovevano sopperire le carenze dell'esposito, sono attualmente fermi i lavori e non si capisce quando termineranno e come termineranno. Grazie. Grazie.